Nella vita ci sono cose che si fanno, cose che non si scelgono né che si vorrebbero fare, ma che alla fine per delle ragioni si fanno. Cose che una volta fatte ti costringono a fare altre cose, perché a cosa segue cosa, e mettendo cosa su cosa, cose su cose, ci si ritrova così lontano dai propri sogni, così fuori dal sentiero che si era immaginato di percorrere quando si pensava alla propria vita, fuori dalla felicità. E quando ci si guarda indietro per vedere dove ci si è persi, quando si è presa la strada che ci ha portato qua, ci si rende conto che quella lunga sequenza di cose sono disposte in un ordine corretto, sensato perfino, che non si riesce a capire dove sia l'errore o di chi sia la colpa. Perché dietro ogni singola cosa, dietro ogni piccola scelta c'è una ragione. Tante ragioni. Ma le ragioni di chi? non si riesgi a capire. Grazie a tutti